Cari cittadini, dal giorno della mia elezione abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento della città. In particolare la nostra azione comprende l'adozione di una differente politica monetaria. In dato odierna il Comune ha introdotto una nuova moneta, il truzzo, con l'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi. Accanto a me potete avere la nuova banconota da 50 truzzo. Il tasso di cambio di truzzo è di 1 euro, quindi 50 truzzo equivalgono a 50 euro. A partire dal mese corrente ai dipendenti della città metropolitana di Cagliari verrà accreditato lo stipendio di truzzo. La moneta, avendo il corso legale, sarà idonea, oltre al pagamento delle tasse comunali, agli acquisti degli esercizi commerciali. Il Comune, al fine di celebrare l'introduzione del truzzo, consegnerà un bonus di 50 truzzo a tutti i cittadini residenti nella Rintresat. Un saluto da Paolo Truzzo.